La macro-regione alpina è un progetto molto importante, riguarda 8 regioni italiane, 48 regioni europee, 7 di 7 stati diversi. È un progetto che si articola in tanti pilastri, in tante azioni concrete e noi vogliamo cogliere l'occasione finalmente per utilizzare le risorse europee in un modo nuovo e diverso. La sfida che abbiamo lanciato è che le 8 regioni italiane, governate da esponenti politici diversi, fanno squadra, faranno squadra. È il messaggio che abbiamo voluto dare ai nostri europarlamentari chiedendo la loro collaborazione per riuscire a cogliere davvero tutte le opportunità che questa nuova istituzione, l'euro-regione o macro-regione alpina, ci può dare.